Grazie. Non so che mi sentite ma ovviamente ho un problema, non riesco a vedere la telecamera, per cui aspettate lì, tanto è sempre così, sempre così, sempre così. Lo so che mi sentite, abbiate pazienza, sto cercando di non disintegrare tutto, come no wifi infine? È tutto collegato, cosa dici? Perché devi fare così, sempre in diretta? Adesso? Oh, ora l'ha preso. Acciderbola a lui! Fermi eh! Tanto salta di sicuro perché qui siamo... Ciao ragazzi bentornati, buongiorno, lunedì 20 aprile, abbiamo avuto qualche piccolo problema di connessione ma lo risolveremo quando andremo a editare il video. Oggi parliamo di un argomento scottante, lunedì che apre la nuova settimana di argomenti, ci vede già con una scaletta nuova di approfondimenti, tutti basati sulle vostre richieste, quindi probabilmente vi posterò più avanti nei social quello di cui si parlerà da oggi fino a prossima domenica. Partiamo però con qualcosa di caldo, ovvero la domanda è, stesso viaggio ma budget diversi, ovvero portafogli diversi, che cosa cambia? Entrerò nello specifico delle mie esperienze personali e vi racconterò i miei punti di vista, ma vi chiedo gentilmente di non lanciarvi in commenti di pancia subito, perché per ogni argomento che abbiamo affrontato dove sarebbe più facile scaricarsi sulla tastiera e dire quello che si pensa, vi invito sempre ad aspettare e ad ascoltare le mie considerazioni e poi fare delle riflessioni usando meno pancia possibile e più testa possibile. perché c'è sempre qualcuno più ricco di noi e quindi dobbiamo accettare il fatto che non si può odiare il mondo semplicemente perché guardando a destra o guardando a sinistra troveremo qualcuno che ha più accesso economico di noi. È un dato di fatto, non ci potete fare niente, anche se siete ricchi ci sarà qualcuno più ricco di voi e quella persona che è ricca più di voi avrà qualcuno più ricco di voi. È ovvio che tutto ciò che è acquistabile con i soldi, beni, prodotti, servizi, vengono vissuti e affrontati in maniera diversa in base a quello che uno può e vuole comprare. Ma vedrete anche che non sempre chi ha soldi da spendere li spende per le stesse cose, quindi di fatto dietro a una scelta non c'è sempre e soltanto l'aspetto economico. Per cui abbiamo un'oretta per stare insieme, è una domanda che mi fate in tantissimi e mi trovo nella scomoda posizione di rivestire entrambe le parti. Cioè non sono uno che parla da un solo lato dell'argomento ma rivesto entrambi i lati dell'argomento. Quindi oltre a dover essere consapevole di quello che dico sia per una parte che per l'altra, devo essere anche estremamente obiettivo perché conosco entrambe. E quindi spero che questo dia credibilità alle mie parole, fiducia a voi nell'ascoltarle e che possiate riflettere su quello che vi dico. Ma prima di iniziare. Vediamo un po' se è tutto ok. Tanto il modem non ci grazierà neanche oggi. Allora, prima di iniziare salutiamo un paio di persone. Abbiamo innanzitutto, non ho salvato il nome perché mi è arrivata su Instagram, questa fotografia pornografica di questo lettore che mi ha mandato la sua bellissima moto con l'adesivo partire per. Si vede poco però si vede. Gli ho proprio risposto così. Qui siamo proprio sul porno andante, gli ho detto. Veramente bello. E poi Raffaele che mi ha mandato la foto della sua bellissima Africa Twin equipaggiata sia con i paramani che monto anch'io e anche con le barre paramotore Outback Motor Tech. Ci siamo sentiti spesso via mail in questi giorni e quindi lo volevo salutare e ringraziare proprio qui. Poi vi faccio vedere anche gli argomenti nuovi. Così vedete di cosa si parlerà in questi giorni. Non riesco a zoomarlo come vorrei però questo settore qui che potete anche vedere con... Si può zoomare sta a fare perché non è l'Excel normale. Eccolo qui. L'ho trovato, l'ho trovato. Badabem. Aspetta eh. Questo settore qui riguarda appunto la nostra settimana in corso. Ed eccolo qua. Noi abbiamo oggi stesso viaggio budget diversi. Oggi pomeriggio mio kit pronto soccorso. Domani di mattina cosa penso del DCT? Qui c'è un errore, lo correggerò dopo. Del DCT. Nel pomeriggio interfono in moto coppia in gruppo. Il mercoledì approfondimento di viaggio Australia in moto. E il pomeriggio tutorial su spedizioni moto e trasporto. Giovedì dove ci fa male di più. Questo è un titolo che mi è venuto in mente, poi vi spiegherò perché. Il pomeriggio settaggi per diversamente alti. Questo è consigliato da Ruben tra l'altro. Venerdì il diario di viaggio perfetto. Venerdì pomeriggio ricambi moto da portare in viaggio. E poi abbiamo le mega live di sabato. Cosa penso dell'Africa Twin Adventure Sport che ho adesso. E domenica parliamo di Carnet de Passage e Fideiussione. Va bene? Quindi questo è l'argomento diciamo settimanale previsto. Adesso saluto i primi 20-25 personaggi che sono già qui in diretta con me. Saluto Bruno Lugotti, Ale Balda, Antonio Baiano, Massimo Laspada, Luca Donmarco, Giovanni Paladin, Sir Lipton Aistì, Matteo Digiuni, Massimiliano Pasquetto, Gianluca Rumi, Luca Danmarco, Daniel Sacaleanu, Fraggio Giacomino, Nosferato, Enrico Borroni, BlackLED60 e Mirko Failli. Quindi so che siete al lavoro, so che potrete leggere questa, vedere questa diretta in un secondo momento ed è molto probabile che questa settimana sia l'ultima del doppio appuntamento perché vedremo un po' in base agli sviluppi del lavoro che ci saranno se potremo, se dovremo, anzi se dovremo ridurre le dirette a un solo appuntamento in un orario che vada bene a tutti. Quindi ho già qualche idea, vediamo un po' che cosa fare, probabilmente ci dovremo impegnare in una sorta di sondaggio per decidere quando fare queste dirette, quando rientrerete tutti a lavorare. Speriamo di rientrare a lavorare intanto e poi dopo vediamo le dirette. Allora mi abbasso un po'. Sbedaboom! Mi sono anche pettinato per l'argomento di oggi, ho messo la magliettina di lavoro, si vede? Allora, lancio la sigla e poi si parta bomba! Questo sono io, mi chiamo Jonathan Encini, sono un toscano classe 1983 e amo viaggiare in moto. A 21 anni parto per il giro del mondo con 2000 euro, in 8 anni visito 50 paesi e lavoro in 6 di questi per finanziarmi. Mi avventuro lungo le vie della seta fino al Nepal, vado a caccia di guadi in Islanda e oggi ho uno storico di 460.000 km in 77 paesi. Racconto queste esperienze di viaggio nei miei libri, per adesso ne ho pubblicati 3, ma sto già scrivendo il quarto. Quando sono in Italia, condivido la mia passione organizzando workshop e moto tendate, a cui partecipano oltre 600 motoviaggiatori da tutta Italia. La mia passione per il motovaggio è tale che nel 2010 mi metto in proprio e organizzo motovaggi, motonoleggi e spedizioni moto in tutto il mondo. Questo lavoro mi porta spesso in Sud America, dove condivido con altri appassionati i chilometri più belli della Patagonia e dell'altopiano andino. E quello che stai per vedere è il mio ultimo video. Buona visione e se ti è stato utile condividilo. Grazie! Eccoci qua ragazzi, allora, di nuovo, diretta teorica del lunedì mattina, oggi parliamo di un argomento molto, molto, molto doloroso per tutti, perché si parla di soldi, si parla di esperienza in base ai soldi e quindi non tutti sono contenti di mettere i numeri sul tavolo, ma vorrei appunto rassicurarvi dicendovi che vedrete nella prossima ora, in questi 50 minuti che ci rimangono, che il sottoscritto non ha rinunciato a niente della bellezza di un viaggio in moto pur iniziando la sua carriera di viaggi con due spiccioli in tasca. Anzi, proprio le persone che avevano più soldi in quel periodo lì si sentivano un po' oltraggiate dal fatto che un ragazzino di 20 anni che aveva due spiccioli se la godeva in giro per il mondo girando a destra e a sinistra. Ma in realtà l'argomento di questo live non è fare la ripicca a chi ha più soldi perché chi ce n'ha meno lo fa anche senza andare in hotel, no, tutt'altro è raccontare le differenze che ci sono delle esperienze di viaggio usando budget diversi. Per partire a spiegare questo argomento vi racconterò un'esperienza di quando, per esempio, feci il mio primo incontro casuale per strada con un partecipante di un tour guidato. Vi parlo del 2008 ed ero... no, 2009 ed ero... non mi ricordo se era 2009-2008, poco importa, a quegli anni lì che io ero ancora dentro il progetto del giro del mondo ed ero impegnato a lavorare con le mie ore personali nei vari paesi per portare a casa dei soldi che poi pagavano la benzina, il mangiare, il dormire, il vestire, le spedizioni, i visti. Quindi io non dipendevo da nessuno, non avevo sponsor economici che mi pagavano le spese. Ero quindi costretto a fare una scelta, ovvero di quando finivo i soldi mi fermavo in un paese, chiedevo il visto per lavorare, quando lo ottenevo iniziavo a lavorare e i soldi degli stipendi, come fate anche voi in Italia, li mettevo da parte e poi quando ce n'avevo un po', salutavo tutto, sbaraccavo baracche e burattini e partivo. È una formula che ho utilizzato in più paesi, chi mi segue da tanto sa che ho lavorato in sei paesi nel mondo e quindi ero sereno di fare quel cavolo che mi pareva a me con i soldi che mi ero guadagnato, senza dover rendere conto a nessuno. E se passava uno che aveva più soldi di me ed era più equipaggiato di me, io ero comunque sereno perché di fatto non avevo tempo di invidiare gli altri perché ero troppo impegnato a godermi la mia totale libertà. Guadagnata con ore di lavoro, mazzi così fatti a farmi doppi turni in paesi che non conoscevo, dove avevo trovato datori di lavoro che mi avevano dato fiducia, mi avevano assunto, quindi io onestamente di starmi a fare il venire l'ulcera per stare a invidiare gli altri non avevo proprio voglia. Preferivo vedere la bellezza in questa sorta di impegno che mi ripagava facendomi trovare un lavoro ogni volta, delle buste pago ogni volta, i soldi con cui io pagavo la benzina, vedevo paesi nuovi, eccetera. Era tutta una sorta di energia positiva che scatenava, che alimentava il viaggio, era una ruota di per sé. Quindi mai stato interessato a invidiare nessuno, non mi è mai interessato proprio niente. Anzi, se vedo una persona che ha tanti soldi dentro di me mi chiedo ottimo, da questa persona forse imparerò molto. Cerchiamo di conoscerla per capire quali sono le sue abilità, le sue competenze, perché se una persona è ricca perché lavora in un settore in cui è competente, sicuramente ha molto da insegnare. Quindi mi ricordo che non c'era da parte mia neanche allora questa sorta di chiusura mentale con altri motoviaggiatori. Per me il motoviaggiatore è un motoviaggiatore punto, non mi interessa sapere la sua dichiarazione di redditi, in che casa vive, non me ne frega proprio niente. L'importante è che lo faccia volentieri. Quindi nel 2008-2009 io mi incontrai, mi sembra, alla stazione di servizio o forse era su un punto panoramico dove si fermavano tutti. E mi si avvicina questo signore sulla sessantina, sessantacinquina, statunitense. Io parlavo già l'inglese abbastanza bene già allora, avevo lavorato anche come insegnante di inglese in Giappone, in Cina. Poi comunque ero stato in Australia un anno, avevo lavorato anche lì, quindi non c'erano problemi di lingua, per cui posso garantirvi che ci siamo capiti molto bene in quel contesto. Lui si avvicina e mi saluta, intavola una conversazione, classiche domande sulla moto. Cosa fai te? Cosa faccio io? Guarda, sto girando il mondo con questa moto già da quattro anni. Gli dico, wow, dice lui. E dentro il suo sguardo io capisco subito che lui mi sta misurando economicamente. Cioè lui già pensa che quattro anni sia uguale pozzo infinito di soldi, o che magari davanti a sé lui ha il classico imprenditore giovane di successo che ha messo su un enterprise enorme, ha fior fior di dipendenti e che semplicemente lui si sta guadagnando la sua pensione anticipata perché ha talmente tanti soldi che può stare a girarsi il mondo quattro anni e i suoi delegati, amministratori delegati, dipendenti fanno il lavoro per lui e gli mandano i soldi a fine mese. Quindi la sua reazione è stata, wow, quattro anni, incredibile. Al che io infierisco ancora di più, sì perché sai sono partito a ventun'anni, quattro anni fa, mi fermo a lavorare ogni tanto e vedo già lui che comincia a capire che è davanti, cioè non ha una persona più ricca di lui ma semplicemente davanti a sé uno che ha una storia un po' particolare e non sa neanche se crederci o no a quel punto perché fa più fatica a credere alla storia vera che a quella ipotetica nella sua testa. Ah, sei uno che gira, lavora. E te? No, no, io sono qui con mia moglie che però oggi è sul veicolo di supporto, è una vacanza in moto che volevamo fare da tanto tempo con il Tour Operator X. È un viaggio che dura, boh, mi sembra fosse un viaggio lungo tipo un mese e mezzo, era uno di quei tour grossi, no? E come è noto degli statunitensi che lo fanno molto apertamente a volte senza malizia ma a volte un po' sì per misurarsi con l'altro lui tira subito fuori la spesa che ha sostenuto. Dice sai, sì è un tour guidato, siamo qui con la scorta, con la guida, con gli hotel abbiamo fatto da questo paese a questo, ora siamo quasi a metà, abbiamo sborsato 32.000 euro così perché in quel momento lì dove io contavo tutto a pieni benzina, dovete capire che io in quegli anni lì spendevo al mese boh, 400, 500 euro, erano le mie spese più grandi, no? Se c'era una spedizione potevo toccare i mille ma ero in moto, non avevo affitti da pagare, non avevo abbonamenti, non avevo canoni, non avevo nulla e quindi l'unica spesa veramente sostanziosa era la benzina e il mangiare, basta dormire, dormivo sempre in tenda, quindi quando lui mi, diciamo, mostra, non mostra, mi confessa molto apertamente questa cifra, 32.000 o 27.000 non mi ricordo, per lui, per la moglie, per il servizio, per il pacchetto per i giorni di viaggio, io caspita, complimenti vi faccio, io quella cifra lì la spendere ho forse in due anni di viaggio nemmeno, eh sì lo so, dice lui, però è un regalo, ci volevamo fare, siamo entrambi imprenditori, tante responsabilità e quindi non volevamo rischiare perché siamo in un posto dove non parliamo lo spagnolo, non conosciamo nessuno e quindi per avere quella libertà controllata diciamo da chi è di competenza, abbiamo scelto di fare sto viaggio, la compagnia è affidabile sono statunitensi, bla 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 bla, fine della storia mentre ho continuato il mio viaggio, io pensavo, diciamo, ma com'è possibile, diciamo, com'è possibile pagare 32.000 euro per un viaggio di un mese, cioè, e facevo dei conti, ma lui, lei, ma i che pagano esattamente, c'erano da mangiare, da dormire, non dormirevano certamente in tenda ero io qui che mi inventavo delle risposte perché ero completamente ignaro del mondo del tour operator in moto, per me era una cosa inconcepibile, senza sapere che poi mi ci sarei messo anch'io a fare quel lavoro lì molti anni dopo, non con quelle cifre per fortuna, comunque di fatto questa coppia di 65 anni che cosa avevano fatto? Avevano prenotato un tour privato o comunque in un gruppo molto limitato di persone per un numero di giorni molto lungo perché avevano la possibilità di farlo, evidentemente, e quindi anche se sulla carta le cifre erano molto impegnative, probabilmente per loro che avevano quel tipo di accesso economico lì era una cifra giusta per concedersi un viaggio di quel tipo lì con pochi altri amici per un periodo molto lungo, con due, tre, quattro professionisti che li seguivano in hotel ultra lusso, con tutti i pasti inclusi, tutta la benzina inclusa e quindi di fatto per loro avevano fatto una valutazione del tipo questo per noi va bene, perché se dovessimo farlo da soli forse spenderemo una metà, però saremmo sempre a preoccuparci di dove siamo, dove si va, dove si va, con chi si parla, la sicurezza di cui poi siamo persone di un certo tipo e quindi a casa abbiamo i familiari che sono preoccupati, quindi alla fine per tutta una serie di motivi loro avevano scelto di fare con i loro soldi, con i loro guadagni quello che cavolo volevano e dico io giustamente. Ma il live di oggi non parla di questo in realtà, parla della strada, noi ci siamo conosciuti sulla strada che ipotizzo essere la Nuova Zelanda ma non mi ricordo, quindi strade molto belle vicino Queensland, vicino tutti i fiordi di Milford Sound, zone veramente bellissime e diciamo la domanda vera che io volevo fare quando ho lanciato questo live qui stamani è, secondo voi l'esperienza sulla strada, cioè il fatto di scoprire un paese in strada e quindi vedere le sue genti, i suoi panorami, i tornanti, le curve, i tramonti, le albe, i laghi, i ghiacciai, respirare i profumi dei campi intorno a queste strade asfaltate perfette che si svolgono lungo le coste, oppure vedere le balene a largo, oppure vedere i delfini, oppure vedere i leoni marini, oppure assaggiare i cibi del posto, oppure dormire in un bel hotel magari con vista su, che cazzo ne so, il ghiacciaio così, pensate che questo dipenda da quanto lui aveva speso e quanto io avevo speso, oppure no, perché fino a prova contraria se io e lui non avessimo neanche intavolato il discorso, senza mettere in mezzo neanche il discorso dei soldi, di quanto si spendeva, eravamo esattamente nello stesso punto dello stesso paese con due moto a fare esattamente la stessa cosa. La mattina ci saremmo svegliati da un punto A, avremmo scoperto per la prima volta una frazione di questo paese fino a un punto B, ci saremmo fermati dove volevamo noi per fare le foto, quello che ci piaceva, avremmo parlato con le persone del posto per strada se ci avesse fatto voglia, avremmo fatto benzina in una stazione di benzina, di fatto l'esperienza non sarebbe cambiata. In parte sì. Che cos'è che comporta in un viaggio la spesa? Io ve l'ho già spiegato questo, sia nel manuale ma anche nelle nostre dirette. Perché se voi analizzate il viaggio a Caponord e molti di voi sono andati a Caponord, vedrete che di fatto, guardate, sotto l'obelisco ci siamo arrivati tutti, giusto? Correggetemi se sbaglio, dov'è? Qua. Mi faccio vedere la foto, ora per l'appunto non ho foto. Ecco. Allora, qui davanti, guardate, qui davanti molti di voi, e siamo in 230, ci sono arrivati. Molti di voi sognano di arrivarci, ma a nessuno gliene frega di sapere con quanti soldi ci siete arrivati. Perché di fatto voi andate in cerca del raggiungimento di una tappa che è un luogo che volete scoprire sulla vostra moto. Quando vi mettete a raccontare della vostra esperienza a Caponord, raccontate delle strade, dei paesaggi, della benzina che era cara, del salmone che era ottimo, della città che vi è piaciuta, non vi mettete necessariamente a dire, sai, io ho speso mille e perché ho speso mille Dio ha trasformato tutte le strade in pietraie, invece il mio amico ha speso ottomila e Dio gli ha trasformato tutte le strade in marmo liscio. Cioè non cambia l'esperienza di viaggio, a prescindere dal budget. Quello che cambia veramente sono i servizi che tu puoi aggiungere all'esperienza di viaggio per farla diventare più vicina alla tua aspettativa o necessità. Io sono molto contento di dormire in tenda e spendo zero, però quando vado su con i miei clienti se mi dicono Jonathan noi ci sa 60 anni, non ci si va a rompere le scatole, si faceva tenda quando ci si aveva 15 anni, ora anche no, si lavora tutto l'anno, non ci sa voglia. Se vengo con te in Patagonia io voglio tutti i hotel 5 stelle, punto, perché viene la mia moglie, perché è una vacanza, perché è un regalo, perché compio 65 anni, non mi voglio romper le scatole a smontare, ma io faccio ok va bene, perché in quel momento lì io sono un facilitatore dell'esperienza, ovvero io ti porto in un posto che tu non conosci, che io conosco molto bene, che la prima volta ho fatto in tenda, ma che con te faccio esattamente come tu la vuoi fare. Arriva un'altra e fa no, ma in hotel è brutto, non è piacevole, non conosci la vera natura. Va bene, come lo vuoi fare? Io la vorrei fare in tenda, però fare almeno una doccia un paio di volte a settimana, mi va bene anche in un bungalow, va bene, si fa in tenda e bungalow, non cambia niente, perché tutte le spese in più che ci sono in un'esperienza di viaggio, se guardate bene, dipendono esattamente da tutto ciò che non ha niente a che fare con la strada, con la scoperta del paese, ma ha a che fare con i servizi accessori. Quali sono i servizi accessori? Dove mangiate? Dove dormite? E chi vi accompagna? Se voi eliminate queste tre cose, vi state facendo un viaggio da solo o da soli, potete a quel punto fare la stessa scelta, cioè dici dormo in tenda, spendo zero, dormo in piccoli hostel, spendo due, dormo in Airbnb, spendo cinque, dormo in albergo, spendo sette, dormo in hotel, spendo dieci, dormo nei resort, spendo venti, dormo nei boutique lodge, spendo venticinque, è indifferente la strada che vi porterà lì, è indifferente l'esperienza di viaggio, è indifferente la magia della scoperta del paese, perché quando siete dentro a una stanza, sopra un letto, che avete pagato cento o trecento euro, siete comunque in un ambiente precluso rispetto al posto dove siete, certo, potreste avere la vista sul lago e tutto quanto, ma di fatto la mattina dopo lascereste quella stanza per continuare il viaggio in moto, quindi spingervi fuori sotto la pioggia, sotto le intemperie, chi paga mille o chi paga dieci, se piove si bagna uguale, se fa caldo suda lo stesso, se scivola e cade sulla strada si sbuccia i ginocchi lo stesso, quindi come vedete non si sta parlando dell'esperienza di viaggio basata sui soldi, ma dei servizi accessori. dice, ma, perché lo dico con un po' di passione, mi sto un po' facendo coinvolgere da questa cosa, perché tempo fa c'è stata una e una sola persona che secondo me non ha capito tanto il discorso di come i servizi accessori influiscono sul costo di un servizio, era una persona che aveva letto le vie della seta, mi aveva fatto tanti complimenti e poi mi scrisse sentimi, aiuti a organizzare le mie vie della seta, ha fatto, va bene, possiamo provare, però richiede del tempo, c'è del lavoro dietro, tu mi hai chiesto di farti visti, chiede di informarsi per gli hotel e tutto quanto, secondo una stima, il lavoro che io impiegherò per fare questo per te è questo, e questa persona fa, eh ma non va bene così, te viaggi, fai le vie della seta, professi questi viaggi a costo zero e poi a me mi fai spendere, sì ti ho detto, ma io ero da solo, me lo sono fatto da me, è come se te ti prepari un piatto di pasta a casa e dici, ho speso, del pacchetto di pasta ho speso un euro, della luce elettrica ho speso un altro euro, del sugo ho speso 4 euro, totale 7 euro più o meno, come mai se vuoi mangiare il piatto di pasta nel ristorante e spendo 15 euro? Eh come mai? Dimmelo te, capito? Veniamo a Valentino il Vale, sì ma 32 mila euro hai voglia di servizi? Allora, 32 mila euro sembra sulla carta un grosso numero, attenzione, sembra sulla carta un grosso numero, però parliamo non di un viaggio di 15 giorni, parliamo di un viaggio di un mese e mezzo, sono 45 giorni, parliamo di due adulti e dovete pensare che questi signori non erano 15 o 20, era un gruppo piccolo, privato, quindi tutte le spese che stanno dentro all'organico di un'attività erano divise solo per 4, capito? 4 o 5 quanti erano? E poi avevano chiesto, mi sembra lui, aveva chiarito fin da subito che aveva chiesto solo il meglio, quindi determinati hotel in zone remote di certi paesi possono avere costi molto superiori a quelli che si trovano nelle città turistiche, perché in una città turistica c'hai un'offerta di 400 hotel, invece nelle zone remote di Milford Sound oppure Queensland, oppure tutte queste città un pochino più fuori, ce ne avrai 3 di lodge che hanno cifre esorbitanti, quindi non mi sorprende tanto il prezzo, adesso che lo vedo da professionista del settore, mi sorprese all'epoca perché non sapevo a 25 anni che io ero in grado di viaggiare con un quarantesimo di quello che spendevano altre persone per concedersi una vacanza, è ovvio che stiamo veramente comparando le esperienze completamente diverse, io ero in viaggio da anni, da mesi, dovevo ottimizzare, dormivo molto volentieri a costo zero, invece queste persone qui non erano in viaggio infinito, erano in vacanza, quindi sapevano quando potevano partire, sapevano quando dovevano tornare e non potevano avere imprevisti di contrattempi perché c'erano impegni di lavoro che li aspettavano, io invece potevo anche, come vi ho raccontato, stare in Malesia un mese e aspettare una centralina, capite? Comunque, se abbiamo visto insieme per esempio che andare in Islanda per conto proprio, dormendo anche in tenda molto spesso, come abbiamo fatto io e Ilenia, così sulla carta facendo una rapida simulazione dei costi, siamo intorno ai 6.000 euro, immaginatevi che cosa costa andare su con un'organizzazione del genere, dove avete due professionisti 24 ore su 24 con voi, le loro spese, perché anche queste persone mangiano, dormono e bevono e quindi se il gruppo è piccolo si fa presto, si fa presto arrivare a questo ciclo qui, quindi mi sento di dire che concentrandosi sull'esperienza di viaggio, se voi partite da Milano e andate a Caponord e tornate, se avete in banca 100.000 euro o ne avete 1.000, farete gli stessi chilometri, la strada sarà sempre la stessa, vi fermerete fra benzina ovunque, vorrete, vedrete l'obelisco, vedrete la pioggia, vedrete l'aurora boreale e tutto quanto, probabilmente vorrete concedervi con i soldi che avete in più, qualche servizio in più, ma proprio il viaggio a Caponord dal record ha dimostrato che se rasentate tutte le spese sotto ai 1.000, mettiamoci l'esempio del 999 euro che ho speso io, l'obelisco lo vedi lo stesso, dormi in posti fantastici davanti ai fiordi, c'è questo senso di avanscoperta dove devi andare a caccia ad un posto dove accamparti per avere un po' di privacy, quello fa parte dell'esperienza, dici ma allora chi dorme in hotel fa meno esperienza di viaggio? No, perché quella è un'esperienza che io non ho fatto, quindi mi è mancato per esempio, scusate, nel mio viaggio a Caponord mi sono privato completamente della comodità e il piacere di sorseggiare un vino a fine serata, dopo una bella giornata di moto, guardando i Trolls, quella è un'esperienza che io non ho fatto e se dovessi andare su con Ilenia magari un domani le direi ma la vuoi fare un po' avventurosa, la vuoi fare un po' più tipo relax vacanza, se lei mi dicesse relax vacanza le potrei dire anche sì, facciamolo, spendiamo anche il doppio o il triplo, invece di 999 euro spendiamo 3000 euro, probabilmente anche di più, ma facciamoci una vacanza, cioè stiamo bene, andiamo in un hotel dove hanno anche la sauna, hanno la spa, perché mi rendo conto che a servizi diversi corrispondono anche esperienze di servizi diversi, ma la strada rimarrebbe sempre la stessa, la scoperta rimarrebbe sempre la stessa. Vediamo le vostre domande. Io le leggo ma vi prego di essere obiettivi e di ragionare non con la pancia ma con, neanche con le tasche, ma di ragionare con la testa. Massimo Fortini, il problema è che ti fanno i conti in tasca già al primo semaforo, nessuno può sapere se la moto vecchia o nuova è per necessità o per piacere. Eccolo lì, vedi Massimo che ho sentito anche su Skype l'altro giorno e che abbraccio e ringrazio ha detto la cosa più giusta. All'inizio di questo live ho fatto una premessa, vi ho detto che scoprirete anche durante questo live che non tutto ciò che uno fa è sintomatico di un budget. Vale a dire questo. Vi ho raccontato che molto spesso porto in tour persone che hanno un enorme potere d'acquisto, potrebbero permettersi qualunque cosa. E anche se facciamo insieme un'esperienza abbastanza addomesticata, cioè con hotel carini o hotel belli, spesso viene fuori a tavola mentre ci si conosce ogni sera e dice, Jonathan ma guarda io faccio enduro a Bergamo anche se lavoro nel mio settore e vengo con te in tour così. Quindi che ne diresti di organizzare un tour dove si fa qualche notte in tenda o qualche roba un po' più ruspante, va bene si può fare. Quindi diciamo che non è una regola assoluta che chi può spendere di più necessariamente debba spendere soldi per un dato servizio. Potrebbe anche dire no a me non mi interessa spendere per gli hotel, vado comunque in tenda. Facciamo un'ipotesi. Quando siamo andati in Islanda e io e Lenia ci siamo dovuti, direi dovuti perché è talmente tanto cara che abbiamo dovuto ottimizzare, ci siamo detti dormiamo in campeggio però una o due volte a settimana si va in hotel e va bene. Però abbiamo anche detto questo, se si dorme in campeggio spendiamo un po' di più per la roba da mangiare di modo che possiamo compensare questa diciamo scomodità fra virgolette mangiando un po' meglio. Quindi si comprava la carne d'agnello, la bottiglia di vino, si comprava il dolcino, si comprava la birra, capite? Cioè non necessariamente vuol dire che siccome sei squattrinato vai in tenda. Però se ti preoccupi di più di far vedere lo squattrinato e quindi non vai in tenda per un discorso d'orgoglio è un problema tuo. Se invece vai comunque in tenda perché ti piace. Però dici ma guarda i soldi non ci mancano per comprare una bella bistecca andiamo a comprarla. Questo in realtà si chiama ottimizzare però essere liberi di spendere i soldi che ti sei guadagnato come ti pare. Perché io lo ripeto qui, l'ho già detto anche altre volte, il giro in moto, scusate cambio, il giro in moto non è una prescrizione medica di uno che ti dice sei malato, devi andare su a Caponord e dormire al freddo in tenda. No ragazzi. Perché si parla di passione che ci accomuna? Perché la moto è una terapia. La moto è un regalo che ti fai e quindi la devi fare come ti pare. Cioè un po' sta dietro a quello e dice eh ma chi c'ha l'Africa Twin è uno sfigato. Vabbè allora non la comprare. A me mi garba io lo voglio uguale. Eh ma chi vai a Caponord in tenda è un morto di fame. Va bene. Te vai nel lusso e io lo voglio in tenda. Sono contento così. Eh ma chi c'ha i Goretex laminato è un riccone. Non è vero. Ho tutto scassato però c'ho il laminato perché mi garba spende soldi solo per il laminato. Va bene. cioè capite che non ci deve essere una regola per tutti. Siamo liberi di scegliere le cose che si compra perché i soldi sono nostri. Capite? Sentitevi sereni di avere una moto da 500 euro ma avere il completo da 4.000. Sono soldi vostri. Mi è da fastidio quando sui forum uno cioè a volte vedo gente che posta questa cosa qua. Dice ciao ragazzi. Faccio un esempio. Per favore è un esempio. Dice ciao ragazzi. Eh ho appena ritirato il mio multistrada 1290 enduro. Stavo cercando un portacellulare da 10 euro da metter su. Il primo commento che leggi è sempre di noi. Dice ma come? C'hai una moto da 22.000 euro e ti compri un caricabatterie da 10? Ma lì ragazzi non è voler risparmiare. Capito? Lì secondo me ci sono altri motivi. Potrebbe essere che stai provando un nuovo accessorio non sa se fa per te. Non sa se si romperà. Non sa se ti piace lì sulla moto. Se va a conflitto con qualche cavo. Se ti va a sbiadire i parabrezzi. Quindi vuoi spendere una cifra ragionevole per fare un esperimento. Per fare un balò. Per baloccarti un po'. Nessuno si sogna di spendere per un portacellulare da 90 euro per una cosa che monti una volta e poi la butti via. Quindi dovete anche capire che anche se uno ha i soldi per comprarsi in multistrada da 58.000 euro non è un peccato capitale se poi vai in libreria e compra una BIC da 50 centesimi. Non è che devi per forza avere tutte penne da 80 euro. Capito? E' lì. Leggiamo le vostre domande. Claudio Bonicalzi. In Islanda ho conosciuto un ragazzo che dormiva in tenda e mangiava nei migliori ristoranti dei vari villaggi. In Islanda significa spendere come una notte in hotel. E' esatto. E' proprio quella. Guarda che versatilità. Dice. A me mi garbo un monte. Dormire in tenda e spende zero. Però ragazzi lascio 200 euro a sera che ho tutte le volte che vado a mangiare. Perché non mi faccio mancare mai. Il caviale, il salmone e una buona bottiglia di vino da 60 euro. Che gli puoi dire a uno così? Io gli direi. Bello. Se te lo puoi godere ben venga. Però criticherei di più quello che gli dà contro. Dice. Eh no. Ma così non va bene. Perché se va in tenda. Sei morto di fame. Poi non puoi dopo spendere. Ma certo che può. Sono soldi suoi. Lasciatelo in pace. Lasciatelo in pace. Capito. Vediamo altre domande. 270 persone. Esatto. Claudio. Non è importante il luogo ma lo spirito. Groot. Io vedo sempre in tenda per piacere e mi becco sempre del barbone. Anch'io Groot. Siamo in due. Va benissimo. Quando ho pubblicato il post della serie a Caponord nei vari forum per aiutare gli altri ho detto guardate se volete cercare informazioni questa è una serie molto dettagliata. È una base di partenza di spesa. Potete spendere solo un po' di più. Quindi spero sia utile per tutti. Buona visione. Subito tutti. Eh ma così sei un barbone. Io non lo farei mai. Ma io non ho detto che devi andarci in tenda. Ho detto guardatevi le informazioni che vi servono e usate quelle. C'è una chiusura mentale a volte nei forum di moto. Io non li frequento tanto perché mi cascano le palle. Wild Roads. Poveri ricchi che siamo. Viaggiare in moto è per tutti. Basta partire. È lì il punto di unione. Bravo Wild Roads. La moto è uno strumento che avvicina le persone non che le separa. Anche se eh che ne so Claudio e io andiamo a farci un giro. Io ho il Transalp da 600 euro e lui c'ha l'HP da 15. Cioè io non guardo la moto sua. A parte il fatto che mi piace la guarderei comunque. Guardo il fatto che siamo su una bella strada. Poi ci si ferma. Si mangia un panino. Magari ci si fa una birrozza. Poi ci si ferma a sedere su uno strapiombo a guardare il panorama. Si chiacchiera un po' della vita. Ma poi ognuno monta sulla sua moto e si continua. Alla fine della serata abbiamo condiviso un'esperienza. Abbiamo dei ricordi. E ognuno l'ha fatto con la sua moto. Basta. Basta. Esatto. Elia dice ognuno con i propri soldi può fare quello che vuole. È vero. Ma spiegatemi perché deve essere sempre indicativo di problemi. Di conflitti fra te puoi o no. Allora te sei una merda e io te lo devo dire. Oppure io posso e te no. Allora io son meglio e te sei peggio. Allora te lo devo far sapere. Non è questo lo spirito costruttivo di una community. Bisogna renderci conto che ognuno di noi ha il suo portafoglio e se lo gestisce come vuole. Anche perché poi, voglio dire, se uno oltre allo stress di lavorarseli quei soldi e guadagnarseli deve anche stressarsi a giustificarli agli altri. Diventa una vita impossibile così. Quindi niente. Andiamo a vedere le vostre... Betty, ma nessuno si domanda quanti sacrifici e rinunce noi mototuristi facciamo per coltivare la nostra passione. Ti fanno i conti in tasca senza sapere cosa c'è dietro. Brava Betty. Tra l'altro vi dico una cosa che forse molti di noi motoveaggiatori hanno dato per scontato perché ormai è un processo giornaliero e graduale che abbiamo assimilato. Ma il nostro hobby è costoso. Cioè il mototurismo è un balocco, è un gioco molto costoso. Perché la moto, perché la manutenzione, perché l'assicurazione, perché la benzina, perché l'olio, perché l'equivaggiamento tecnico, perché le gomme, cioè solo per mantenere in attività questa giostra chiamata mototurismo, ogni anno devi buttare dentro dei soldi. Perché non ti pesano? Perché lo fai con piacere. Perché dici questa è la mia medicina, sbang e butti giù mille euro di gomme. Questa è la mia passione, padabum e butti giù altri mille euro di tagliando. Ma lo fai senza... lo fai perché se non lo facesse... è come chi va in palestra, dice l'abbonamento annuale? Tieni. Perché a me mi fa bene e lo devo fare. Oddio. Vediamo un po'. Sì, quindi capite che in questi giorni dove ho portato in diretta a voi tutti gli argomenti che tendono a fare riferimento al manuale, il manuale è quella guida che vi vuole insegnare a fare tutto per conto vostro e anche risparmiare soldi. Io, come vedete, non ho problemi a indirizzarvi lontano dalla mia attività di tour. Perché non sono qui a dirvi, non leggete il manuale, venite in tour, pagatevi più. Perché io so che tipo di motoviaggiatore sono e so che tipo di clienti vengono da me. Vengono da me persone che magari in quel dato momento, in quel dato momento della loro carriera, in quel dato momento della loro vita, vogliono celebrare qualcosa e anche se l'hanno fatto per 15 anni, per conto loro, organizzandosi per conto loro in quel dato momento della loro vita, vogliono stare con qualcun altro, fare con briccola, vogliono delegare qualcuno perché non ci vogliono pensare loro, magari escono da un periodo lavorativo intenso, stressante. Ma voi mi vedete andare in moto e cingare, ma ci vado anch'io al villaggio turistico con Ilenia e Leonardo sullo sdraio così a non fare niente? Io le faccio anch'io queste cose, ho bisogno anch'io di staccare la spina ogni tanto. Non crederete mica che porto Leonardo e Ilenia in tenda sulla spiaggia a fare bivacco abusivo, dire no, stiamo qui in vacanza a Rimini, non paghiamo niente, no, non funziona così. Andiamo anche noi nei campeggi, negli hotel, nei resort, lo facciamo. Secondo me voi vi immaginate che io tipo, boh, non lo so, vado a un ristorante, però porto il fornellino sotto il tavolo e mentre per non pagare la roba mi cucino sotto il tavolo. Anzi, tutt'altro, tutt'altro. Quando facciamo le tendate si cerca anche di far lavorare le realtà, montane, abbiamo fatto lavorare tanti circoli arci per fargli fare la pizza, per fargli fare la polenta, per fargli fare i crostini, perché comunque il lavoro va celebrato, cioè nel senso, specialmente in questi tempi, capite? Vediamo un po'. Antonio Candia, la inutile invidia e curiosità alcune volte mi diverte e sto al gioco, i sacrifici sono i nostri. Ma certo, ragazzi, ma certo. Tra l'altro è per questo motivo che mi trovo in imbarazzo a invidiare chi ha più soldi di me o chi ha un potere economico più alto del mio, perché semplici saranno. Mi trovo in imbarazzo, sapete perché? Perché il fattore economico che traspare dai beni che uno ha in quel momento non mi mostra i sacrifici e le difficoltà e la storia che c'è dietro quella persona. Se io dovesse andare a Caponord domani e becco uno di voi che viene lì con la moto che costa di più, l'equifaggiamento che costa di più, tutto, che lo guardo e faccio uno scanning di tutti i prodotti che ha e metto insieme, sto parlando di una persona che tra orologio, abbigliamento tecnico, moto e casco ha addosso 50.000 euro. Perché devo pensare necessariamente in negativo? Io penso ad avere uno che magari si è fatto un mazzo così, oppure che è stato molto intelligente perché si è giocato le carte giuste nella vita e nel lavoro, è stato molto intraprendente, oppure è stato audace, oppure è estremamente competente quindi ha studiato tanto, oppure è stata una mente brillante che non ha studiato un cazzo però poi magari ha avuto l'idea geniale. Non lo so, non importa. Non è che perché uno c'è soldi è più merda di te. Casomai uno che c'è soldi ha delle risposte da darti. Chiediglielo. Per tutti i 273 che sono qui. Se c'è uno che non è d'accordo, faccia così. Prossima volta al semaforo, quando gli si affianca uno con il macchinone, gli fa ciao, scusa, come hai fatto a guadagnarti i tuoi soldi? Prova a fargli quella domanda lì e vediamo che ti rispondi. Va bene. Quindi allo stesso modo, come non ho imbarazzo verso una persona che è più agiata di me, non ho imbarazzo o non ho mai avuto imbarazzo a, diciamo, mostrare le mie inadeguatezze economiche nei primi anni. Non mi vergognavo. Vi faccio vedere una foto, ma io, ripeto, non ho problemi, perché anzi credo, alla luce di chi sono oggi, che queste testimonianze parlino più forte di mille parole. Vi faccio vedere una foto. Voi non ci crederete, però sono i tempi in cui per me viaggiare è la cosa più importante, anche dei vestiti. Quindi preparatevi. Allora, attenzione, nei primi anni, parlo dei primi due o tre anni, il livello di economicità del mio viaggio era ai limiti estremi. Potrei quasi definirlo ancora più estremi di quello che è stato a Caponord. Non spendevo niente che non fosse beni di prima necessità. Quindi benzina per la moto e cibo. E il cibo a volte mangiavo anche la roba più a buon mercato che trovavo. Ma questo voleva dire che, anche se il tempo andava avanti, e i miei vestiti con cui ero partito dall'Italia erano logori e strappati, per me non era un problema darlo a vedere. Perché la rinuncia di quel paio di jeans che mi poteva costare 3 euro volevano dire mezzo serbatoio pieno della moto. Guardate questa foto. Vietnam 2006. Guardate i miei pantaloni. Eppure, ragazzi, qui non è essere taccagni, perché io lo so, non sono una persona taccagna. Ma chiunque oggi, seduti comodamente sul divano, guardando questa foto, diceva, dai, compratelo un paio di pantaloni, 3 euro, ma che sarà mai. Io avevo talmente paura di dover compromettere il mio viaggio a causa degli ultimi 3 euro che mi mancavano, perché già in più occasioni ero rimasto a secco a fare salti mortali per trovare un lavoro, che ero disposto a non comprare quei pantaloni, a non spendere quei 3 euro, perché quei 3 euro potevano salvarmi nel momento del bisogno. Quindi li tenevo, li risparmiavo. Non vi dico in che condizioni erano le mie mutande. C'è stata una volta a Singapore che io ho chiesto ospitalità a una ragazza Fibi si chiama, siamo ancora in contatto, di Couchsurfing, vi avevano già parlato di questa cosa. E la madre, dopo un paio di giorni che ero, mi disse, senti, ma hai della biancheria da lavare? Io gli ho detto tutto così, senza neanche preoccuparmi, perché per me era normale essere un motovigliatore straccione così. La sua mamma, quando vide che la mia biancheria aveva dei fori enormi così, me l'andò a comprare nuova, con il mio grande imbarazzo. Dice, io non posso vedere un ragazzo della tua età che veste con questa roba qui. E credo di avere anche la foto della mia biancheria. No, per fortuna non ce l'ho. Quindi è così, ragazzi. C'è poco da fare. Quando vuoi una cosa a tutti i costi, non ti stai a preoccupare a che rinunce fai, perché vai avanti per la tua strada. Targa era una moto vietnamita, perché la mia non poteva entrare, quindi ho noleggiato questa Minsk. Capito? Quindi, cioè, se io non ho paura, non ho vergogna di far vedere le mutande forate alla mamma di una ragazza che mi sta ospitando, figuratevi se mi vergogno a campeggiare in un bosco. Esatto. Massimo Fortini, Jonathan, adesso i pantaloni strappati costano più che senza strappi. Sei un culo. E infatti, se li avessi tenuti, probabilmente oggi li potrei anche rivendere. Lol on the road. Glielo spieghi tu a Maya, madre, questo concetto? Allora, le mutande, Giuseppe Castelli mi chiede delle mutande. Ora non voglio entrare in dettaglio. Io ho sempre portato più mutande e più calzini rispetto ai vestiti, perché i vestiti li mettevo di rado quando mi toglievo la roba da moto. Le mutande le volevo essere pulite, però sono arrivati a dei livelli, ragazzi, i primi anni che si laceravano. Queste mutande si laceravano. erano brutte da vedere. E quindi niente. Luca Capomagi. Noi dormiamo in tenda, in bungalow, in bellissimi hotel. Dipende solo dallo spirito che vogliamo dare al viaggio. Se cerchiamo relax non rinunciamo a comfort e servizi. Se no, grezzuria. Io vi capisco. E capisco anche chi è magari... Vedi, un'altra riflessione che mi viene da fare. Dice, ma sai, io sono versatile, faccio come fa... Ho letto adesso... Dove sei? Non lo trovo più. Il commento di adesso. Luca. Faccio come Luca, sono versatile. Faccio un po' di tenna, un po' di bungalow, al volto degli hotel. Sono flessibile. Un po' come dice anche Jonathan. Va bene. Però cazzo, dici, io non esco mai con quegli amici lì che sono tutti, che ne so, vanno solo in albergo. Che palle. Allora, vi spiego. Potrebbe anche essere che questa gente qui ha viaggiato in tenda 25 anni e mai gli è venuta a noia. Perché a forza di fare quella cosa per tanto tempo dopo un po' cambi. Quindi devo dire che anche io, in un momento di saturazione dal bivacco, quando sono entrato in carriera nel discorso di tour operator, ero ben contento, ben grato del discorso di dormire in un hotel perché non mi sarei mai immaginato di poter portare i clienti in tenda ad esserne contento perché venivo da anni e anni e anni. Quindi mi ricordo saltavo sul letto delle stanze di lodge, boutique a 5 stelle che io manco mi sarei potuto permettere ma che grazie al mio lavoro di cui potevo godere perché i clienti mi dicevano noi si dorme, vogliamo dormire in tutti gli hotel dentro alle posadas o le bodegas argentine per provare il vino, per fare queste cose qui. Quindi vogliamo hotel decenti, vogliamo questi, 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 questi. Tu ci accompagni lì e si fa questa cosa qui. Bene, contentissimo. Capito? Sì, è vero. Simone Rossi dice, è sempre importante sapersi ricucire la roba. Avevo dei kit di cucitura però non ero bravo a usarli quindi mi sa che non ci si può fare niente. Lol on the road. Io ho fatto lo scout per 16 anni, anni quasi. Ci sono abituato a questo stile di vita. A me piace, però ovviamente una cosa che mi, che vorrei trasmettervi e che è importante. Io non ho più 21 anni. Non sono più il ragazzino single che gira. Quindi la mia aspettativa quando ho iniziato a fare questi viaggi 15 anni fa era che sarebbe stata una crescita esponenziale. È come quando vai all'università. Non sarai uno studente per sempre mantenuto dai genitori oppure che ha un lavoretto per pagarsi gli studi. Farai i tuoi esami perché vuoi una crescita esponenziale che ti porta poi a un lavoro, a una professione perché sapevo che in un certo momento della mia vita avrei avuto figli, avrei avuto una compagna, avrei avuto una casa. Quindi non mi posso oggi considerare felice se dovessi fare le stesse scelte di economia che facevo 15 anni fa. Se facessi le stesse cose 15 anni fa non ci sarebbe stata una crescita da parte mia. Capito? Quindi è ovvio che parti dal tuo minimo. Ognuno ha un minimo di partenza diverso dagli altri. Io sono partito da quello lì e volevo crescere, imparare più cose, imparare più mestieri, essere più competente su più discipline e poi anche fare di quest'arte, metterla da parte e farne tesoro. Ecco perché oggi io vivo di questo. Capite? E sono anche contento perché c'è stato un progresso di 15 anni, una staffetta, una gavetta, scusatemi, una gavetta lunga, lenta, difficoltosa perché questo lavoro qui non è un lavoro testato da tanti che fanno tutti e che quindi tutti hanno una risposta. Questa qui era una scommessa. Dire va bene, mi butto, speriamo che il paracadute si apra. Quindi ci vuole tanta determinazione, tanta costanza, ci vuole anche tanta merda in faccia che ti prendi. Perché la gente subito, appena passi dal moto viaggiatore a tour leader, dice, aha, eccolo lì. Dice, no, sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Uno nel tempo libero per passione e per piacere, l'altro nella professione per passione e per professione. Sono due cose diverse. Dice, ma non va bene, non lo puoi fare. Non puoi essere moto viaggiatore e tour leader allo stesso momento. Come no? Che vuol dire? Non posso fare i pizza man delivery e quindi guidare uno scooter per lavoro e poi nel mio tempo libero avere una moto a marce e farmi giri sui boschi? Chi l'ha detta sta regola? Me lo dici chi l'ha detta sta regola? Vabbè, oggi è più uno sfogo personale più che online. Ecco, Peppe ha fatto una bella considerazione. Jonathan, ho 20 anni e vorrei fare un bel viaggio avventura, ma ho paura di rovinarmelo perché guardando i tuoi video sono troppo preparato. Eh, probabilmente sì. Sapete, quando io sono partito per il mio giro del mondo questo non era stato scritto. Però la fortuna grossa è che il mondo cambia sempre, quindi tutto quello che è scritto qui fra dieci anni non vale più. Ecco perché uscirà la decima edizione. E lì a Langella, me lo chiedono tutti se cerco personale, ma in questo momento qui di coronavirus e crisi io sono fermo da quattro mesi e mezzo. Anzi, vi dirò di più, siamo stati ancora più sfigati perché il nostro tour storico che era il Capodanno in Patagonia, che ho fatto dieci anni, ho accompagnato io per dieci anni, anzi nove a causa delle proteste violentissime che ci sono state in Cile allo scorso ottobre molti nostri clienti hanno detto no, si voleva venire ma non si viene, si viene più grazie perché preferiamo aspettare che tutto si risolva. Quindi abbiamo avuto molto meno lavoro molte persone hanno spedito la moto con noi ma non abbiamo fatto tour guidati perché c'era veramente poca gente ed è stato il primo anno, pensate, in dieci anni che non sono andato in Cile quindi il coronavirus adesso in Cile sta piegando il paese pure lì perché è arrivato là un mese e mezzo dopo di noi quindi avranno una curva epidemiologica molto più lunga probabilmente. Poi bisogna vedere come la gestiranno perché la salute è privata e quindi è un po' un casino. Però per fortuna mia il Tibet l'hanno già aperto abbiamo dovuto rimborsare le quote perché era saltato tutto a causa del coronavirus però il Tibet l'hanno appena riaperto. Mi è arrivata una mail giorni fa che dice noi siamo operativi, appena volete mandare i clienti mandateli. Il problema è che gli ho detto noi siamo chiusi in casa perché in Italia non ci si sposta, ti possono mandare i clienti stranieri se loro non hanno il lockdown ma lo dubito perché è un problema che affligge tutto il mondo quindi detto questo vi dico ora uno che mi chiede, mi manda il curriculum ora che gli dico grazie ma è capito diccelo chi ha detto sta regola ci pensa noi dici dici no no non voglio fare idee di nessun tipo voi dovete capire che anche se adesso ci sono 300 persone che mi guardano e molti di voi sono attenti a quello che faccio, a quello che dico e apprezzano e me lo fanno sapere me lo dicono, mi scrivono, comprano i miei libri, comprano le mie magliette, mi mandano i messaggi mi esortano, vedono i miei film gratuiti, mi fanno i complimenti e tutto quanto dovete sapere che da sempre mi porto dietro quella piccola percentuale di haters ce l'ho sempre avuti, ormai ci convivo e sicuramente sono anche in mezzo a voi adesso gente che comunque fa un po' di sciacallaggio, un po' di spionaggio che ti ascolta, che ti copia le idee gente non originale che ti copia pari pari tutti gli stili ti copia il modo in cui pubblichi, il modo in cui fai la grafica il modo in cui comunichi perché c'è gente che semplicemente da sola non lo sa fare quindi deve emulare gli altri e io non dico niente, non mi dà fastidia anzi a volte mi inorgoglisce, dico ma pensa questo mi fa esattamente il clone di quello che faccio io mi va bene, lasciamo stare perché tanto la storicità di quello che io faccio è tutta online, quindi è tutta tracciabile lo vedete anche da voi, qual è il mio stile come faccio le cose, non mi metto a fare guerra o fight, non mi piace, non mi è mai piaciuto perché non ho tempo di invidiare gli altri ho tempo solo di godermi la mia scelta e Marco dice se ti serve uno chef fammi sapere ora tutti si qui a proporsi per lavorare con me non è un bell'ambiente dover lavorare il tour ora che c'è il coronavirus quindi io vi pregherei di non valutarlo nemmeno però sapete, l'haters fa parte di questo mondo cioè chi è pubblico agli altri io in piccola scala ma ora penso ai grandi famosi insomma, mi viene in mente Fedez perché è un gran personaggio marketing ma anche uno che la dice senza tanti peli sulla lingua Fedez deve ricevere tutti i giorni anche, non lo so, minacce di morte non lo so, io per adesso non ci sono arrivato però qualche uno che ha visto, anche l'altro giorno in diretta è entrato qualcuno che sparava un po' di parolacce offendeva la gente l'avete cazziato voi subito io non l'ho fatto in tempo neanche a trovare ma fa parte del gioco capito? e poi lo vedete avete anche voi un'intelligenza un occhio critico tale da vedere anche quando una persona è autentica verso di voi o se sta facendo la solita recita insomma, se sta dicendo le classiche cose non lo so quindi non dico di essere perfetto ho fatto degli sbagli anch'io degli errori di valutazione anch'io a volte mi sono fidato di qualcuno e poi magari me lo voleva tirare sapete anche voi dove per questo gioco sempre da solo non gioco in squadra sono molto protettivo con quelli che sono i miei copyright i miei loghi i miei canali perché ho provato a suo tempo a dare fiducia a delegati e non sempre è andata bene quindi ho detto vabbè lasciamo perdere che se no capite faccio eventi dove non siete neanche obbligati a comprare da mangiare cioè io cerco di lasciare la libertà dice vieni però se non vuoi comprare da mangiare te lo porti da casa quindi non c'è proprio del business dietro a tutto quello che faccio però c'è lo spirito di aggregazione e giustamente i servizi vanno comunque pagati perché ci sono strutture che cucinano acqua che si consuma per lavarsi per bere elettricità quindi alla gente pare strano che ci siano piccole quote da pagare perché dice allora è business va bene allora stai a casa che ti devo dire se non si possono neanche ricoprire le spese non so che dire più che dirti portati da mangiare da casa e cucinatelo per conto tuo non so che fare se fosse business avrei detto vieni qui e comprami questo menu fisso a 200 euro non è così se fosse business paghereste le tracce paghereste i workshop paghereste i film paghereste tutto e quindi cerco di fare il possibile però non è sempre facile di conseguenza chi non secondo me questa gente critica non lavora perché chi lavora le sa queste cose cioè chi lavora si confronta con spese e guadagni e quindi sa che il guadagno deve essere decurtato della spesa e quindi non è tutto cioè non è così comunque torniamo su di voi dai no non scrivo più nei forum addirittura avevo aperto il mio ora rispondo a Antonello però facebook ha superato come utilizzo i forum vecchio stile per cui usiamo i forum usiamo facebook è molto più comodo si si e quindi molti Valentino il vale molti club ti fanno pagare i giri su strada della domenica ecco io non volevo questo a me mi sembra mi sembra mi sembra che non sia il modo giusto quindi io cercherò sempre di impegnarmi per lasciare le mie tracce durante le mototendate gratuite e libere perché è una cosa che volete fare se la fate punto cioè non è che ti vendo la strada non è che l'ho asfaltata io e ecco perché molti dicono ma come mai non ci guidi alla mototendata perché in quel caso lì ve la dovrei far pagare perché ci sono subentrano altre responsabilità assicurazioni e bla 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 invece se andate per conto vostro con una traccia che seguite è gratuito e è libero quindi lasciamolo così snello sereno amichevole oggi sono in forma sì non sto dicendo ora leggevo il commento di Fabio59 non sto dicendo che i corsi a pagamento siano sbagliati attenzione ci sono tanti professionisti che fanno un ottimo lavoro ed è giusto pagarli perché lo fanno per un gruppo limitato di persone quindi devono spalmare i loro costi e la necessità di guadagnare perché ragazzi tutti mangiano pagando di spalmare i loro diciamo corsi sui pochi partecipanti che prendono per volta ma quando sei in una tendata di 500 persone non puoi mica fare un serpente di 500 moto sarebbe anche deleterio non ti gode neanche il viaggio quindi io faccio così vi do le tracce e voi ve li girate quando volete ed è gratuito meglio di così non si può non sferato se vi serve una persona che faccia una cosa al posto mio o non la sa fare o non la voglio fare quindi è giusto che paghi quella persona pagare il lavoro degli altri giusto e basta e ripeto io ho dei collaboratori che mi aiutano nel lavoro che faccio e scoprirete probabilmente nel libro che parla dell'Australia che purtroppo è di tendenza cercare di far lavorare a costo zero le nuove diciamo le persone giovani perché ti approfitti del fatto che non sanno molto del lavoro eccetera eccetera è una cosa che a me ha causato danni durante il viaggio perché spesso ho fatto dei lavori per testate giornalistiche che non mi davano un euro anche se per generare quelle foto io mi ero pagato tutto il viaggio mi pagavo la benzina le notti in tenda e mangiare e oltre alle foto dovevo anche scrivere l'articolo e dice eh ma ti paghiamo con visibilità la visibilità sa che ti devi infilare e quindi cosa succede da quando sono entrato nel vivo dell'organizzazione di tutte le cose che io faccio se devo coinvolgere un collaboratore di solito la maggior parte delle volte parto con fammi un preventivo non dico di essere perfetto ci sono state delle volte in cui magari questo non è stato fatto però perché magari erano lavori dove c'era una retribuzione a commissione in quel caso lì però la retribuzione ci deve essere non sto parlando sto parlando di collaboratori con professionisti ovviamente quindi chi mi ha fatto la copertina del libro è stato pagato chi mi ha fatto l'impaginazione è stato pagato Gianluigi se stai ascoltando mandami quella mail chi mi ha fatto gli adesivi è stato pagato perché chi collabora con me alla tendata è pagato tutta gente che comunque gli ospiti speciali che ho avuto quando ho avuto Jacques Loucassin anche il suo fee io l'ho pagato perché giustamente è gente che viene da lontano per cui non ci vedo niente di male e di conseguenza se qualcuno mi chiede di fare un evento anche io ho dei listini perché giustamente è il mio tempo il mio lavoro poi te la buttano anche su questo aspetto ma per te è passione non dovresti farti pagare sì ho capito è passione però anche il lavoro e quindi che si fa? volontariato? capite? c'è un po' un'idea confusa là fuori di quello che ci spetta forse noi ci siamo abituati a regalare molto più di quello che dovremmo e quindi molto spesso a buon cuore diciamo vabbè una cosa che mi piace la faccio gratis ma non è mica sempre giusto perché se l'altra persona vende la tua partecipazione vi faccio un esempio quando vai a mangiare la pizza in pizzeria la pizza è fatta dalla base e poi c'è pomodoro mozzarella e i vari ingredienti quel pizzaiolo lì compra i vari ingredienti a un prezzo costruisce la pizza e te la rivende al prezzo con il suo valore aggiunto ecco una rivista una rivista di moto senza fare nomi è fatta dagli stessi ingredienti a tante pagine con le foto il testo il QR code le didascalie questi sono gli ingredienti della pizza ora quando si aspetta una rivista di arrivare da te e dire manda manda mandami le foto che hai fatto raccontami la tua bella storia questi ingredienti però non te li pago ma poi la rivista esce in edicola e voi date i vostri soldi e pagate la rivista e questi soldi vanno in tasca alla rivista mica quello che ha fatto la foto e quindi è ingiusta questa cosa vi pare? ecco questo è uno dei motivi perché da tanti anni non appaio più nelle riviste perché sono estremamente diffidente da quel punto di vista non è mai venuto è venuto solo un paio di riviste da me che mi hanno scritto buongiorno Jonathan vorremmo fare un articolo su di te faccio un preventivo stranamente queste due riviste sono dell'Australia e della Nuova Zelanda dall'Italia ancora nessuno quindi grazie ma no grazie preferisco non farmi mangiare da queste riviste qui e impegnarmi a fare contenuti che ripeto sono gratuiti per voi non dovete andare in edicola a comprarli i miei video a comprare i blog che scrivo è tutto gratis e se vi piace solo dopo quando l'avete valutato se decidete ok mi piace che la giornata fa compro il libro però solo dopo basta secondo me ormai il modo di lavorare sereno è questo cioè un po' è stata le dipendenze di redazioni che poi cioè ragazzi siamo arrivati a fare dei servizi e chiedere ho chiesto delle cifre che non mi hanno dato poi mi hanno detto ok ti si dà 100 euro simbolici sai in quanto tempo mi hanno dato ma hanno pagato due anni 100 euro pagati in 24 mesi ma stiamo scherzando io non ho parole l'altro giorno ho pagato una collaboratrice che ha fatto per me la redazione di un blog perché io non riuscivo a starci dietro e anche altri lavoretti ha fatto mi mandi la fattura per favore mi ha mandato la fattura ho letto l'Iban l'ho messo sull'home banking e l'ho pagata subito e che lei fa deve aspettare e lei mi fa voglio leggerla a me guarda sono entrando in un discorso talmente etico che mi sono anche un po' arrabbiato guarda aspetta scusate un attimo questo poi chiudiamo allora eccolo qui lei mi manda la fattura la fattura l'11 marzo io l'11 marzo mando il bonifico con la copia di avvenuto pagamento e lei risponde lo stesso giorno wow sono commossa dalla rapidità grazie a presto scusa è il tuo lavoro cosa devo farti aspettare scusa hai già fatto il lavoro ha già fatto la fattura basta non ho capito il fatto di aver lavorato all'estero tanto aver visto come l'etica sul lavoro è diversa rispetto al nostro paese mi ha fatto un po' riflettere su questa cosa quindi ho risposto ho risposto a lei e ho detto mi fa lei sono commossa per la rapidità grazie a presto la mia risposta ho vissuto e lavorato all'estero punto della serie è così che bisognerebbe fare non che quando fai un lavoro e mandi la fattura devi anche sta così aspettare eh ma puoi fare il solicito scusa per favore ma non è che cioè quei soldi ti sono dovuti l'hai lavorati capito? quindi niente è tutto qui è tutto qui ho risposto alla domanda mamma mia no non sono l'unico Paolo dice il problema è che se noi non sono l'unico c'è sempre una persona eticamente preparata però il fatto è che ne basta una che ti fa girare le scatole e subito perdi la speranza però insomma sono discorsi un po' particolari siamo entrati nel discorso dei soldi del viaggio e poi abbiamo un po' divagato però va bene probabilmente è la roba che mi volevo togliere dal gruppone senza fare autocelebrazioni volevo solo raccontarvi che tutto ha un costo le moto non ve l'hanno mica regalate l'abbigliamento tecnico non ve lo regalano tutto si compra tutto si compra dice ma bello comodo dite comodo da parte tua dirlo te te la regalano una roba si gliela chiedo gliela chiedo il mio lavoro consisterà in questo fare un test di qui fare un test di là se la ditta la marchio è disposta a regalartelo è perché evidentemente c'è un vantaggio da parte loro quindi è come se l'avessi acquistato perché di fatto poi dietro c'è del lavoro redazionale portarmeli dietro in viaggio eccetera eccetera però come sapete la moto me la compro molte cose me le compro le cose della gopro me le compro molte cose io le compro come fate voi perché non è che sono quello che gli piovono le cose dal cielo e quando le cose le compri è perché c'è qualcuno dietro che sta facendo un servizio per te capito? dai ragazzi ci ci siamo ci siamo ce le siamo dette di tutti i colori e quindi oggi va bene così sappiate che la scaletta la posterò a brevissimo sui social così la vedete anche voi però sapete anche che c'è questo mitico mitico questo mitico excel che vedete qua volevo far vedere una cosa che parla un po' della nostra storia insieme in questo ultimo periodo noi siamo insieme dal 23 marzo cioè fra tre giorni è un mese che noi siamo in diretta tutti i giorni noi siamo stati tutti i giorni a guardarci negli occhi a conoscerci meglio a parlare delle nostre cose preferite da un mese e mi auguro veramente per tutti quanti che questa ricorrenza non finisca ma che venga quantomeno alleggerita da un eventuale ritorno sul lavoro al 100% io sarò molto contento di dare quell'annuncio di dire ragazzi siete tutti tornati al lavoro da domani la diretta sarà una volta al giorno in questo orario x va bene per adesso non c'è questa conferma anche se molti sono tornati al lavoro alcuni fanno i turni alcuni ancora no quindi abbiamo una scaletta che ci porterà fino a domenica 26 aprile fra un po' siamo a maggio ragazzi ma vi rendete conto oddio va bene quindi vediamo cosa vi metto oggi visto che si parlava di povertà del viaggio in Vietnam dai visto che è un po' uno spoiler anzi no si vai Vietnam roba inedita così la vedete per la prima volta però devo guardare bene che cosa c'è qui perché c'è della roba che non si può vedere e chi se ne ricorda allora abbassate il volume perché adesso faccio partire questi video che mi ricordo ai tempi c'era il volume altissimo e gracchiavano quindi abbassate subito il volume parto ecco questo non si vede nulla però aspetta fammi vedere un po' ho paura a far vedere questi video qui perché oh mamma no ragazzi troviamo una cosa allora ragazzi ragazzi arreggetevi perché ho trovato allora tutta roba inedita questa che vedrete solo nel libro sudest asiatico in moto perché questa roba non è mai uscita la vedete voi per la prima volta e anche io per la prima volta non me la ricordavo neanche più vedrete proprio in quel viaggio in vietnam come ero vestito come ero fuori dalla tenda con che moto viaggiavo siete pronti ma siete pronti perché qui ragazzi arriviamo a dei livelli di eficità incredibili siete pronti siete pronti non andate a pranzo dove vede questa cosa siete pronti sì o no vabbè state uscendo ve ne pentirete amaramente guardate qui questa è la nuova attrezzatura di cui dispongo parto dalla tenda che è questo nuovo igloo di cui mi sono fornito in Dallian e l'ho pagato a 198 quai che poi sarebbero 19 euro e 80 strano come sia più costosa qui che non in Italia però qualitativamente penso che questi siamo di due è ben corribentata poi doppio strato impermeabile ma le vedete le braccia rosse anche per a livello di montaggio è molto più facile molto più rossa prima oltre non fosse l'altra e poi per 15 euro mi ha accompagnato perfino dall'Italia fino al certo punto però abbassa oddio la moto dunque ve la presento cosa vi posso dire molto semplice come vedete no 125 25 centimetri cubi monocilindrico una scintilla monosparco freno tamburo anteriore freno tamburo posteriore quattro velocità ci sono le semplici apparecchiature elettroniche di cui dispone ogni moto ma ovviamente vabbè abbiamo indicatori di direzione luci abbaglianti e non clacson e la chiave non c'è ovviamente fa tutto con lo switch che apre e chiude il circuito elettrico per l'auto sono ovviamente stato fornito di ricambi fra le quali appunto due candele le chiavi di tutte le misure per poter entrare venire sulla moto due cacciaviti un martello le pinze una camera d'aria le leve per appunto togliere il copertone poi anche parti eletti dalla centralina dalla centralina nonostante non ci sia la batteria con la centralina di trasformazione tra l'altro mentre la cavi per l'errello con gas tutto quanto la sella come dicevo è molto spaziosa l'apertura è alleva in caso di burton si ruba tutto però ecco è una moto molto leggera molto semplice molto rumorosa e ve la faccio vedere da vicino ve la presento non abbiate poi a dire che non ve l'ho fatta vedere da vicino la moto va che bella ho scelto il blu che mi piaceva il colore questa è la moto Minsk questo portapacchi è semplice ma di fatto essenziale addirittura si solleva quando non si ha bisogno di usarlo si riduce il carico di trasporto doppia sospensione posteriore ci sono ancora ovviamente avviamento a leva perché la chiave non c'è comunque non c'è lo starter mi sono scordato di dire l'olio ovviamente lo si miscela nel serbatoio il 5% di olio sul pieno del serbatoio cos'altro ogni tanto la luce non fa basta toccare appunto il mammut il cavetto il connettore dei cavi questa è la targa in caso vogliate farvi un'esperienza anche sulla regola di matricolazione vietnamite è un oggettino un oggettino valido che sembra valido per adesso ho fatto solo un giorno di guida e quindi 200 km ma aspetto a dire troppo sicuramente è curioso visto che ieri ho preso l'acqua tutto il giorno è curioso notare come il parafango davanti anziché parare il fango lo incanala tutto sul proiettore anteriore che automaticamente lo sparpaglia tutto sui miei pantaloni qua e qua però quello è il meno anche perché il clima è perfetto nel senso caldo umido ieri mentre pioveva non avevo freddo ero soltanto irritato dal fatto che non potessi guidare con una visuale ottima anche perché il casco poi la visura del casco è piuttosto usurata va bene va bene questo è tutto questo è il lago ovviamente ve lo ripresento lì c'è il treppiedi treppiedi di cui mi sono dotato sempre in Cina per 10 euro fantastico perché raggiunge l'altezza del 180 185 centimetri da terra quindi riesco a prendere qua abbiamo qualche bovino ragazzi mamma mia mamma mia cioè vi rendete conto vi rendete conto partire da quelle basi lì e arrivare dopo 16 anni qui lo fai solo con la passione e determinazione come ero secco come ero bruciato mi sembrava che avevo i guanti i guanti da duchessa quelli sai dove vai a fare con le mani così dove bevi il calice dal cameriere che te le porta così i guanti da duchessa o da tipo da migella d'onore non lo so anzi ora li cerchiamo su me li voglio comprare guanti guanti lunghi per galà questi rossi me li compro me li compro o me li metto alla mototendata aspetta questi qui me li compro o me li metto alla mototendata va bene vi piacciono non sono male dai questi qui che ne dite e comunque per chi fosse entrato ora e avesse visto che il video è ovviamente un estratto del mio ingresso in Vietnam non avevo più la Transalp in quel momento perché l'avevo spedita dalla Cina alla Thailandia perché sapevo di dover scavalcare il Vietnam perché la mia non l'avrebbero fatta entrare non c'era il modo di importare le moto con cilindrate troppo grandi e quindi ho noleggiato quella per mi sembra 5-6 dollari al giorno più il casco e questa roba qui e quello è appunto il primo bivacco fatto fuori da Hanoi per far vedere anche la povertà proprio materiale con cui mi muovevo ma all'estrema gioia di essere libero in salute su una moto a scoprire in Vietnam che è uno dei più bei paesi da fare in moto e avere tutto tutto l'entusiasmo del mondo anche se avevo le tasche dei pantaloni bucate le mutande bucate i sandali e avevo le bruciature sulla schiena e sulle mani come questi guanti da Galac che vedete qui e che probabilmente comprerò e che indosserò per voi alla moto tendata 2020 grazie ragazzi siete un pubblico fantastico siete speciali state ridendo sono contento di augurarvi buon appetito con qualche risata io sono così questo che vedete sono io non è un prodotto artificiale non c'è copione non c'è script non c'è niente so io è la mia vita quindi spero vi faccia piacere ci vediamo nel pomeriggio parliamo appunto di il mio kit di pronto so coerso l'ho scritto anche male e quindi vi aspetto alle 5 mi raccomando fate i bravi buon appetito e ci vediamo dopo mando la sigla la sigla era questa quindi non mando proprio nulla mando questo guarda e ci vediamo oggi pomeriggio ciao ragazzi grazie a tutti